Con un deluso, Daniele Sebastiani. Ma deluso, difficile commentare una partita così. Loro hanno giocato molto bene, come sa fare il mister. Ci hanno fatto tre gol, quindi non possiamo dire nulla. Pescara non ha mai tirato in porta, sostanzialmente. Complimenti a loro, nemmeno loro. Però abbiamo preso tre gol. Presidente, a Messina si era vista una squadra che, al di là del vento, al di là del campo, contro squadre chiuse che ripartivano, ha fatto fatica. Contro Catanzaro, piuttosto che Francavilla. Squadre che permettono di giocare, il Pescara gioca benissimo. Oggi nuovamente squadra tatticamente bloccata, tatticamente chiusa, il Pescara sofferto. Campanello d'allarme in vista dei play-off? No, dobbiamo essere più bravi in queste partite, essere un po' più attenti. È chiaro che noi vogliamo sempre giocare e poi magari puoi prendere dei gol come abbiamo preso oggi. Qual è la chiave di lettura del Presidente oggi? Che idea si è fatto? Che sono stati più bravi, quindi gli vanno fatti i complimenti. hanno vinto 3-0, di che cosa dobbiamo parlare? C'è qualcosa che non le è piaciuto particolarmente oggi? No, un po' di attenzione in più sicuramente potevamo evitare i gol. Presidente, è un Pescara che ora ha messo in serio pericolo il terzo posto, perché bisogna attendere qualche ora per vedere i risultati di Foggia e di Picerno. Il Cerignola è a meno 3 dopo la vittoria di Crotone. A questo punto non può più fallire il Pescara? Il nostro destino lo scriviamo noi. Abbiamo due partite, bisogna vincerle e poi si parla di nulla. Se non le vinci è giusto che non arrivi terzo. La prima volta la sento con un tono di voce così pacato e così dispiaciuto? No, non sono dispiaciuto perché alla fine ci può stare che vinci o perdi la partita, ma come l'abbiamo persa oggi sinceramente c'è rammarico perché se uno rivede la partita dice che non è che noi non abbiamo fatto nulla, ma neanche gli altri hanno fatto nulla. Però abbiamo perso 3 gol e quindi sono stati più bravi di noi. Ha parlato già con Zeman, ha detto qualcosa? No, non ci ho parlato ancora. Commenteremo adesso, ci sono le feste di Pasqua e commenteremo dopo Pasqua. Mi sembra un presidente arrabbiato. No, non sono arrabbiato perché non c'è da essere arrabbiati, c'è da essere attenti e oggi secondo me non siamo stati così attenti, soprattutto nelle situazioni di 3 gol. Faccio io una domanda al presidente Sebastiani, se me la girate Massimo da studio, così poi salutiamo il dirigente Biancazzurro. Sì, la faccio io velocemente, intanto auguri buona Pasqua al presidente, però volevo chiedere che probabilmente il limite di questa squadra è che non riesce, fa fatica, diciamo così, ad adattarsi in talune circostanze all'avversario di turno. Allora, intanto gli auguri di buona Pasqua dallo studio, da Massimo Profeta e Fabio Ferraresi. Dice Massimo che è una squadra che fa fatica ad adattarsi all'avversario di turno. Ma non è che facciamo fatica ad adattarci, noi siamo quelli, vogliamo giocare sempre a calcio e chiaramente ti prende il bello e il brutto di questa situazione qui. Poi viene una partita giocata la settimana scorsa dove abbiamo visto un calcio di un altro livello e oggi purtroppo non è stato così, però ci sta anche questo. Poi quando arriveremo ai play-off dove le squadre dovranno comunque provare a giocare perché o vinci o sei fuori, magari dovranno essere gli altri adattarsi un po' ad altro tipo di gioco. Però noi sapevamo che ci aspettavano una partita così, loro attenti, pronti a ripartire e a farti male. Noi abbiamo sbagliato nel essere attenti. Ecco, forse il problema, chiudo io Presidente, è che con squadre che non propongono, non giocano ma sono solo attenti e ripartono e il Pescara perde. Questo può essere un campanello d'allarme. Fa più fatica, sicuramente fa più fatica. Ci sono delle situazioni in cui oggi probabilmente se fossero state elette in maniera diversa probabilmente quei gol non avremmo presi.